Finora sono state tutte chiacchiere, anche adesso sono chiacchiere, sono le chiacchiere giuste che bisogna fare, perché ci vogliono delle chiacchiere per arrivare ai fatti, però alla fine per cambiare la situazione ci vogliono i fatti e l'unico fatto che c'è è riportare mia figlia a casa. Adesso speriamo che si smuovano un po' le acque, però oggi sono stato a pranzo con l'ambasciatore, lui è stato a trovare il ministro della giustizia ungherese che era sul pezzo, sapeva chi era mia figlia, aveva tutte le informazioni, per cui credo che adesso ci sia la fase in cui chi può lavorare a livello diplomatico credo che sia il momento di farlo perché dobbiamo arrivare presto a creare condizioni per presentare un'istanza per i domiciliari che sia accettata e non rifiutata come le altre volte che l'abbiamo presentata.